Grazie davvero. Grazie davvero. Grazie a tutti. Quattro idee che hanno a che fare con la vostra missione, la frattura con la sedentarietà. Ma non me l'avevi detta questa? Mi sembra particolarmente efficace e voglio proprio ragionare di quattro idee che abbiamo prodotto assieme, perché voi siete parte del forno di disuguaglianze, insieme a organizzazioni molto diverse. Caritas italiane, action aid, alcuni si domandano a che ci azzeccano, perché se stanno tutte insieme si capisce, ma quando stanno otto si cercano devi capire perché stanno insieme. Povertà, disuguaglianza. C'è una chance in meno che succeda qualcosa. Dall'altro canto per voi il forum e le cose che vi dico, di nuovo me lo direte, lo capirò, sono una sponda fondamentale perché se quelle cose succedessero, quelle che vi dirò, cambia il contesto in cui voi lavorate e quindi cambia l'efficacia con cui voi portate a casa i risultati che perseguite. Che è il punto fondamentale delle organizzazioni di cittadinanza quando lavorano insieme. Ognuna di esse tocca un terreno, la povertà, la cooperazione internazionale, il tema della salute, ma ognuna di queste cambia la vita di Maria e di Paolo o di Azzir in un territorio perché gli apre la strada di un impianto che altrimenti non avrebbe avuto. Ma non stiamo cambiando il contesto, se no non staremo al punto in cui siamo. È evidente che non abbiamo cambiato il contesto, è evidente che abbiamo bucato abbondantemente il contesto e che è anche nostra responsabilità e quindi anche vostra. E quindi perché siamo stati segmentati. Allora questa è un po' la scommessa. Vi dico le quattro idee, prima di dirvi richiamo solo i cinque linee guida che abbiamo in testa, cinque parole chiave per capire così sappiamo dove siamo. Primo, dietro la dinamica autoritaria in atto, perché io non la chiamo né populismo né sovranismo né non so che siano queste cose, capisco bene, è una dinamica, quella che è in atto è una dinamica autoritaria, il cui fondamento, il primo punto è l'ingiustizia, la grave ingiustizia sociale che è cresciuta in questi anni, sui tre fronti che ha richiamato prima Vincenzo. Economica sicuramente, di sport, l'abbiamo visto i numeri, di accesso ai servizi fondamentali, i ticket, l'istruzione, ti dene una. E poi di riconoscimento, anche quando non ti è arrivato ancora addosso il treno hai la sensazione che non ti si fili nessuno, hai pezzi di territorio, per questo è così territoriale la disuguaglianza, pezzi di territorio granulare, non è città contro campagna. Sono alcune città contro alcune campagne, alcuni pezzi delle città contro altri pezzi delle città che granularmente hanno avuto l'impressione che in trent'anni le classi dirigenti non si siano interessate di loro. Questo è il primo punto. Secondo, quindi dietro di tutto c'è l'ingiustizia sociale. Secondo, l'ha detta benissimo, chi l'ha detto un attimo fa? Comunque, sta in noi, l'ha detta Liliana, sta in noi invertire la rotta. Questo stato di cose non è frutto della globalizzazione, della tecnologia, è frutto di scelte o errori al meglio, oppure di scelte volutamente compiute. Secondo punto, se questo è vero l'inversione non può avvenire solo sul terreno redistributivo. Una delle quattro idee che vi rimetto sul tavolo è redistributiva, perché la redistribuzione è fondamentale. Qua c'è qualcuno che la vuole smontare, perché dietro la flat tax c'è una manovra contro la redistribuzione, questo è evidente. Non do niente a 8 milioni di famiglie che non pagano le imposte, che sono incapienti. Do pochissimo soldini alle famiglie che non hanno molte e gli levo, perché dato che dovrò coprirla quella roba, quindi gli leverò i servizi, quindi si vedranno aumentare i ticket e do un sacco di soldi agli ambienti, questa è l'operazione flat tax. Quindi redistribuire è fondamentale, ma non basta, perché è ovvio che le disuguaglianze che si sono aperte sono legate a meccanismi. I ragazzi che non riescono a fare neanche sport perché hanno altro da cui pensare, perché devono andare a rubare all'età di 14 anni, non li acchiappo redistribuendo, non gli rifrega niente di avere l'emosina a loro. Devo fare un intervento che riguarda i meccanismi di formazione del reddito. Predistribuzione, se guardate la campagna il dibattito negli Stati Uniti d'America, che qualche volta è sempre molto indietro, ma anche più avanti, come sempre. E dove tutto può, dove la biforcazione è enorme, il dibattito è predistribuzione. Quarto, che vuol dire predistribuzione? Vuol dire aggredire i meccanismi della formazione della ricchezza. Noi nel foro ne abbiamo individuati tre, semplici semplici, quelli di sempre. Il cambiamento tecnologico, è un male, un bene, non è né un male né un bene, dipende da come lo governiamo, dipende se la tecnologia dell'informazione concentra conoscenza delle mani di pochissimi, che è quello che sta avvenendo, le sette sorelle digitali che hanno sostituito le sette sorelle del petrolio, che sono le sette più grandi imprese del mondo, che decidono tutto di quello che noi, e ci si è, ma pure è naturale che lo facciano, oppure potrebbe ancora essere diffusiva. Quindi il cambiamento tecnologico, il rapporto tra lavoratori e imprenditori, sorpresa, siamo nel capitalismo, quindi non è sorprendente che da quello dipenda molto, il potere che ha il lavoro di contrattare le proprie condizioni, dignità e autonomia, diceva Trentin. E terzo, il passaggio generazionale, quel momento emicidiale, quando ti avvicini ai 18 anni, quei 5-6 anni della vita, tra i 14 e i 20, quasi tra i 12 per la ragazza e quasi tra i 20, 12 a 18, in cui si capisce che cosa farai, dove pesano le differenze della tua famiglia, pesano i quartieri delle città nel decidere di che razza di vita potrai vivere. Ultima di tutte, che si raccorda incredibilmente a un punto su cui credo abbia chiuso Vincenzo, qualunque cosa facciamo dobbiamo dirlo in termini verificabili e di risultati attesi, cioè, fai un'azione pubblica, lo Stato, fai un'azione collettiva, una organizzazione del terzo settore, mi devi dire, qual è il tuo obiettivo? Aumentare di 5 punti percentuali il numero di ragazzi di un quartiere sfigato che fanno sport, mi devi dire qual è l'obiettivo, cioè non possiamo più permetterci, anche abbiamo perso la fiducia di masse, di popolazione, non possiamo permetterci di non parlare il linguaggio degli outcome, dei risultati attesi, misurabili, senza mitizzare gli indicatori, come è stato fatto, ma sempre obbligandoci, non pretendendo di dire quali devono essere, ma consentendo, l'altro giorno stavo, faccio una direzione, un secondo solo, un'esperienza straordinaria, diversa dalla vostra, sulla salute a Trieste, straordinaria, fatta da tutta l'esperienza dei Basagliani, ci sono 19 mila abitanti di situazioni difficili di Trieste che sono accuditi, accuditi da centri di territorio, dove avviene di tutto, avviene anche lo sport, perché nasce salute ma poi diventa tutto, perché nella vita di una persona è tutto insieme, ebbene in quei territori loro riducono il numero di morti trovati 5 giorni dopo, questo è un indicatore di risultato, le morti solitarie dei vecchi nei palazzi abbandonati di questo paese. Questi sono i nostri 5 principi, adesso scendo sulla terra di 4, vi dico le 4 idee, queste cosa abbiamo fatto, lo sapete che abbiamo fatto, alcuni di voi l'hanno visto, abbiamo tutti insieme elaborato 15 proposte per la giustizia sociale, che riguardano questi 3 pezzi, tecnologia, lavoro, impresa, passaggio generazionale, io ve ne dico 4, che mi sembrano, 3 delle quali sono quelle su cui voi avete fatto una scelta, te ne aggiungo uno Vincenzo, la prima, tutti sappiamo che quando c'è un cambiamento tecnologico è la forza del capitalismo, anche la sua forza e anche la sua fascina ragione di cui continuo a vivere, quando si fanno un sacco di profitti, i profitti tendono ad essere reinvestiti dove ci stanno più aspettative di profitto, è normale, poi alcuni economisti ci hanno proprio preso il Nobel per dire questa frase che vi ho detto adesso, ve lo assicuro, però è abbastanza ovvio. Cosa vuol dire? Che quando sei in una fase di cambiamento tecnologico che produce enormi profitti, ci deve essere un qualche meccanismo che prende questa roba e la rimette anche su settori che non hanno alta produttività, quali sono? Quelli del welfare, il welfare non dà elevatissime produttività, quindi tu hai bisogno in tutti i meccanismi di cambiamento tecnologico di una macchina che riporti i profitti che si accumulano da una parte e li redistribuisca, come lo fai con le tasse? Basta pagare le tasse? No. Cosa è venuto meno in questi anni in Italia? La capacità di produrre servizi di qualità nei territori, istruzione di qualità. Cosa lamentano i ragazzi o gli anziani che vivono nelle aree abbandonate del paese? Che la cura della loro salute è pessima, che la situazione dei loro ATER è allucinante, per cui non possono neanche uscire di casa perché l'ascensore è rotto da otto mesi, che la qualità della loro scuola è terribile, non perché gli insegnanti sono cattivi, ma perché cambiano continuamente, perché è una scuola che nessun insegnante vuole, la prima cosa che vogliono fare è andarsene e quindi quel ragazzo o quella ragazza non ha un punto di riferimento. Quindi noi non riusciamo più, in un paese che ha la migliore salute in media del mondo, abbiamo Rosarno, abbiamo dei luoghi dove la gente, abbiamo la vicenda del Molise, dove improvvisamente bisogna mandare i carabinieri. Allora, noi cosa diciamo? Una cosa molto semplice, c'è un modo per fare una politica diversa che si parla con voi, perché si parla con quell'impegno che il settore pubblico ha preso a coprogrammare, a coprogettare articoli 55 e 56 di quella carta di cui oggi si è parlato tanto, insieme ai cittadini organizzati o individuali. Stiamo parlando di questa cosa qua, perché? Perché abbiamo capito e un pezzo di mondo ha capito da tempo, adesso pure quelli che avevano fatto finta di non accorgersene, che per avere una scuola delle mie aree rurali, quelle in cui ho passato un pezzo ultimo della mia vita, che sia la Valmare, le Madonie o il Sangro Aventino, io non è che faccio la stessa scuola che faccio in una periferia o in un centro, io devo disegnare una scuola a misura di quei ragazzi, perché per motivi banali, di una semplicità straordinaria, voglio una scuola che guardi il cielo, perché ho le stelle, che posso vedere perché non ho la luce, e quindi astronomia, religione, matematica e filosofia le faccio guardando l'orbe che da Roma non posso vedere, e quindi il ragazzo che sta in quel territorio si sente non uno sfigato, ma più felice ancora. Ma secondo voi? Ma l'idea a un burocrate, io sono un burocrate, quindi posso parlare male di burocrati, anche perché non è colpa nostra, se noi non agiamo, è colpa delle regole del sistema, che non ci incentivano a interpretare le norme, ma ci puniscono quando abbiamo il coraggio di interpretarle, perché ci portano in corte dei conti. Sapete che tra noi dirigenti pubblici, se uno di noi non è finito davanti alla corte dei conti, almeno una volta, diciamo, vuol dire che è uno che non ha rischiato mai, quindi non ha fatto niente, quindi è un vanto essere finito davanti alla corte dei conti per un amministratore pubblico. Ma alla fine noi non lo sappiamo come deve essere fatta la scuola nel sangue avventino, chi ce la deve dire? Voi ce lo dovete dire, voi ce lo dovete dire che razza di palestra deve essere costruito, che tipo di organizzazione? La prima cosa che pensano i ragazzi che ti raccontano parlando della roba vostra, perché di cos'altro parlano, se gli si dà la chance di parlare. E nella strategia delle aree interne, cioè una strategia pubblica di cui mi onoro di avere lanciato, l'iniziativa è curata da tante persone, sotto attacco in questo momento, pesante da parte di chi? Della politica? No, della vecchia amministrazione pubblica. Nota? Sottolineata? In quella strategia c'è lo spazio per l'organizzazione di cittadinanza, di potere organizzare i cittadini e far arrivare la voce, in modo tale che la ASL che deve disegnare la salute può tenere conto del ragionamento che voi fate, perché ovviamente la salute dei ragazzi di quel territorio, o anche se mi permettete di un settantenne, visto che io mi vicino un po' più ai settantenni che ai ragazzi, è rilevante, perché non è che poi si diventa sedentari, giusto? Mi hanno insegnato che fare rock climbing, che è la mia attività sportiva, va bene, perché forse se reggo, se mi reggono le gambe posso fare anche fino, basta che vado un po' più lento, sempre più lento, sempre più lento, però io ho visto gente di 85 anni che ancora si arrampicava anche in quarto grado, quindi è evidente che la salute di un territorio, specie di un territorio rurale, quindi questa è la prima cosa, noi proponiamo dentro una delle proposte che è alla vostra attenzione, è che questo modo di ver... No, no, i soldi, più soldi alla salute, più soldi alla scuola, ci faccio niente se sono spesi male, tutte le nostre periferie, bando per le periferie, no, perché è meglio di non avere niente, ma c'è di meglio del bando per le periferie, c'è una strategia per una periferia di una città, la strategia è fatta sentendo i cittadini, ascoltandoli in un contesto e mettendo insieme tutto, la salute, voi come luogo di socializzazione, se ci siete o non ci siete è importante, e se non ci siete voi ci deve essere un'altra cosa che non sia il supermercato, come unico luogo di socializzazione, quindi questo, dentro lì trovate, proposta numero 8, un ragionamento che alza una palla e infatti noi stiamo lavorando con voi in uno o due territori italiani, questa è la prima, ah aspettate, abbiamo pure qualche chance, perché mica siamo così sfigati, dato che non c'è un'idea in circolazione che sia una, a Roma, ci ho messo a malino, sia la Roma comunale, sia la Roma nazionale, sono messe male assai, e dato che ci sta quella barca di soldi dei fondi comunitari 2021-2027, non c'è un'idea in circolazione se noi in altri 5 mesi avessimo costruito, grazie anche a voi, ma con dentro le vostre idee, attraverso il forum o attraverso la vostra partecipazione diretta, non importa, l'importante è che ci muoviamo assieme, che quelli che si occupano di salute cercano di ottenere un po' più di soldi per la salute, quelli dello sport un po' più di soldi sullo sport, in un territorio serve una roba integrata che quadri, se insieme ragioniamo su questo noi possiamo ottenere dei risultati significativi, ad esempio un piano strategico per le campagne deindustrializzate o per le periferie che abbia dentro gli elementi che Vincenzo ci ha raccontato. Seconda proposta, i luoghi contano, io figurarsi sono anni che lavoro sui luoghi, quindi figurarsi se non contano i luoghi, però poi contano pure le singole persone, contano le ricchezze familiari, contano per un ragazzo di 14 anni, in quell'itinerario che dicevo prima, una ragazza ancora di più, visti i maggiori condizionamenti che ha una ragazza rispetto a un ragazzo in una famiglia ancora, i forti maggiori condizionamenti che ha una ragazza rispetto a un ragazzo, conta il fatto se la famiglia sia in grado di avere quei soldini e le voglia dare, o gli voglia dare quei soldini che a 18 anni possono farle fare le seguenti cose, scegli un'università diversa da quella che sta dietro casa, perché mi posso permettere 15 mila euro, più o meno, tre anni, per andare all'università, quella che veramente ho capito dove mi risolvo tutto, oppure no, niente università. All'età di 16 anni mi sono inventata, perché andavo in un tecnico di valore, l'Italia è piena di studi tecnici di valore, anche nel vostro campo e in altri campi, mi sono inventato che posso diventare un manager, come si chiamano quelli vostri, sportivo, posso farlo andando all'università, di nuovo, scegliendomene una valida, oppure no, non è questo, voglio partire subito, perché io sono che parte subito, voglio partire subito con un'operazione di start-up, perché ci ho avuto un'idea, ci ho avuto un'idea interessante, un'idea a cui vengo tra un istante, che magari riguarda l'intelligenza artificiale, che è il mio punto aggiunto, che riguarda l'uso degli algoritmi e l'apprendimento automatico. Oppure decido di fare un giro, voglio fare un giro per il mondo perché non sono riuscito a imparare lingue, ho capito che senza lingue non ci sono, devo andare un anno in America Latina, un anno in India, così sto in India e imparo anche l'inglese. Siamo tutti uguali? I ragazzi nostri sono tutti uguali di fronte alla possibilità di fare questa scelta, non se ne parla neanche. Alcuni devono addirittura darsi carico del fatto che c'è nel padre che è invalidato o una situazione familiare micidiale con tutte le separazioni che ci sono, eccetera, per cui proprio non se ne parla e qualcun altro magari non è così messo male ma riesce a fare università ma solo vicino a casa e il viaggio non se ne parla. Noi proponiamo una cosa semplice, semplicissima, noi proponiamo di dare un'eredità universale ad ogni ragazzo e ragazza di 18 anni pari a 15.000 euro che sia ricco o povero. Universale vuol dire a tutti, senza controlli di ISE, ISE, tutte stemenate che quando le introduci tu cambi gli assetti familiari, il Sud sta cambiando gli assetti familiari perché può incassare di più se si dividono le famiglie, almeno dal punto di vista delle dichiarazioni amministrative. A tutti i ragazzi e ragazze senza nessuna condizione ci facciano ciò che desiderano. Responsabilità assoluta e accompagnata, universale, incondizionata, accompagnata. Beh, accompagnata sì perché sennò arrivano la gatto e la volpe della storia di Pinocchio che ce ne sono tanti in giro quindi se ci fosse un sistema del genere tu da 14 anni in poi nella scuola della parrocchia, nella rete di imprese, nei luoghi di socializzazione, e ora ce l'ho da voi, si discute di questa roba, si discute di come usarla, cioè si esercita sui ragazzi informazione, apprendimento, condizionamento, influenza sociale, quella buona, quella che avviene in un contesto sociale sano. Come la pagate questa roba? Costa 8 miliardi e 8 all'anno perché sono 580 mila ragazzi che ogni anno raggiungono, poi saranno sempre di meno ovviamente se continuiamo così, che se ne vanno. Facendo una cosa ovvia, facendo smettere di pagare le tasse di successione alle famiglie di ceto medio, oggi pagano le tasse di successione 110 famiglie, 108 famiglie l'anno, 108 persone l'anno. Noi facciamo una proposta in cui 80 mila non la pagano più e i 30 mila che hanno tanti soldini, specie se sei sopra i 5 milioni, se spieghi sopra i 5 milioni paghi la metà come avviene oggi in Gran Bretagna che non è proprio questa, non è che sto parlando di un paese socialista, questa è una misura liberale, molto liberale. Con questa roba si copre, cosa fa i livelli? Allora perché vi ho raccontato questa cosa? Perché a noi ci piacerebbe il forum e con Vincenzo ci siamo parlati, a noi ci piacerebbe fare cosa? Cosa ci abbiamo in testa? Che tipo di modello di politica? Siamo così sicuri che questa misura vada bene? Siamo molto sicuri, ma non ne siamo totalmente sicuri. E poi soprattutto questo paese non ne può più di riforme decise in Parlamento o in un governo o in una stanza che vengono realizzate domani mattina. Le riforme vere vanno discusse con il popolo. Allora la nostra idea è molto semplice, andare in giro per l'Italia, per le scuole, le camere del lavoro e io mi augurerei i vostri luoghi dove ci sono giovani a discuterne. Vi convince, non vi convince, cosa ha sbagliato, cosa mi torna, che aggiusteresti, come la faresti? 15.000 sono pochi, l'abbiamo già fatto come forum, noi l'abbiamo così, abbiamo già girato delle scuole, 600 studenti qua, 50 giovani universitari, l'abbiamo già discusse, l'abbiamo già migliorata, ma possiamo migliorarla ancora con voi. Questa cosa è importantissima perché vi dà respiro, io credo, a noi certamente ci serve per capire come farla meglio. Terza idea. Sto paese, visto che stiamo parlando di giovani, ha un problema serissimo, ha un problema di salari di entrata dei giovani che sono inammissibili. Di più un paese dove ormai è diventato normale dire alle persone sai cosa c'è? Tu vieni a lavorare con me, nel mio studio, nel mio luogo, è una grande onore per te, è vero? Io non ti pago, visto che è un grande onore. Quanto lavoro non pagato, non pagato, non pagato poco, quanto lavoro non pagato c'è attorno a ognuno di noi. Se ognuno di noi adesso dovesse scrivere un pezzo di carta e depositarlo e dire quante persone non pagate, non pagate un euro. E questo è un tema, lo dico con estrema franchezza, anche delicato del volontariato, perché il volontariato lo fa Fabrizio Barca, lo può fare, perché diciamo, come dire, se messo da parte quei suoi risparmi, ma anche all'interno del nostro forum noi abbiamo tre persone come dire pagate e oggi ci poniamo il problema. Lo dico con sincerità, lo sai Vincenzo, che non gli possiamo neanche dire a dicembre se verrà rinnovato, perché non è corretto dire a una persona a dicembre se viene rinnovato o meno, glielo devi dire prima, perché deve avere la chance di trovarsi una cosa diversa. se no noi predichiamo e poi non pratichiamo ciò che predichiamo, lo dico con molta sincerità, prima di tutto a me stesso, perché anche a me viene la tentazione di dire è un bel lavoro di dire ai nostri, Allora, questo è un tema che noi affrontiamo, c'è un tema di salario minimo legale, in questo momento è la più ovvia di tutte le proposte che c'è in Parlamento, i PD, il 5 Stelle, eccetera, ve la dico perché è una cosa che riguarda tutti i nostri mondi, tutti i mondi, tutto il mondo del terzo settore ha dentro il suo corpo, tutte le cooperative sociali hanno contraddizioni, sì, quelle di cui veni parlato oggi, però dobbiamo essere un po' franche, le cooperative sociali hanno avuto contraddizioni, contraddizioni forti, ci sono dei soci che comandano e degli altri che lavorano e che sono anche precari, diciamolo, questo è un tema che va affrontato per un motivo semplice, se no finiamo come Roma, tutti come Roma, perché se si è finiti come Roma, perché non l'abbiamo detto, se si è finiti col tema, se abbiamo dato lo spazio che abbiamo dato, a questi signori terribili della guerra che in questo momento parlano nel nostro paese a cominciare dall'attuale ministro degli interni è perché lui si è potuto permettere di dire delle cose che erano vere ed è terribile quando un uomo cattivo dice delle cose vere, che cioè dietro i soldi che venivano dati per i rifugiati ci stavano imbrogli, perché la Calabria la conosca, li ho visti, li ho visti davanti ai miei occhi, della roba ignobile, 35 euro di cui 30 erano presi da un'organizzazione che si paludava di definizioni appropriate, questa roba alla fine ci rimbalza in faccia e ci travolge, ci travolge, perché adesso è Roma poi, Roma è la quintessenza di questo, abbiamo tollerato diciamo delle strutture che non potevano e non avrebbero dovuto esistere, abbiamo lasciato a loro la possibilità e questi ovviamente hanno seminato fango su tutti facendo di tutta il benfascio e quindi discutere del tema della dignità del lavoro che è un tema europeo perché poi noi l'abbiamo proposto anche a livello europeo, il gruppo socialdemocratico ha proposto che questo, pensate cosa sarebbe se l'Europa potesse dire il salario minimo europeo, magari con differenziazioni anche di valore, ma una regola per tutta Europa, pensate i ragazzi di tutta Europa cosa legherebbero all'Europa, grazie all'Europa, quindi non è certo né noi del forum, Vincenzo, né voi del LUIS che risolvono la cosa, ma discutiamone. L'ultima, quella sorpresa diciamo, quella per cui mi sento di parlare con voi guardando negli occhi perché io sono sicuro che in questa sala ci sono specialmente più giovani, ne vedo tanti, Vincenzo posso dire? Sono proprio contento? Ma no perché no, come dire, io non sono un giovanilista ma perché è proprio della combinazione della nostra generazione e dei più giovani che nasce il meglio, se noi non lavoriamo nelle stessi luoghi facciamo un casino, sia se siamo giovanilisti sia se siamo vetero. Allora, è l'intelligenza artificiale, lo sapete cos'è? In una sua applicazione è la più comune, gli algoritmi di apprendimento automatico, lo sapete perfettamente cosa sono? Sono correlazioni statistiche, qualcuno statistica come me l'ha fatta, sa cos'è una correlazione. Io non so prevedere, perché non c'è un modello previsivo, non so Italy, Farinetti, lui non lo sa la domenica di quante persone ha bisogno, fa un algoritmo di apprendimento automatico in cui in relazione alla previsioni meteorologiche, il fatto che è il momento del pagamento dello stipendio, no, il fatto che è un certo giorno del mese, il fatto che i giornali sono pessimisti o meno, verifica che in passato quando si sono determinate quelle condizioni la gente non viene a Italy e quel giorno dice ai lavoratori non c'è bisogno che venite. Se invece l'algoritmo di apprendimento automatico gli dice domani voglio un sacco di persone, questi sono gli algoritmi, sono delle correlazioni ripetute con masse enorme di dati. Nello sport vengo tra un istante, come sapete meglio di me, vengono usati in maniera sempre più massiccia nel vostro settore. Sono cattivi o sono buoni gli algoritmi diciamo nel forum? Non sono né buoni né cattivi, dipende qual è l'obiettivo che gli diamo. Se l'obiettivo dice Caritas a noi, se l'obiettivo è quello di minimizzare il numero di lavoratori, al minimo indispensabile nel grande magazzino che vende ovoline o quelle di Italy, io ottengo due risultati drammatici, che ai lavoratori gli viene comunicato se lavorano o meno la domenica gli viene comunicato il sabato sera verso le 8 di sera e non c'è più vita. Secondo, mi dice Caritas che attenta al territorio, che quei ragazzi o quelle ragazze che vanno a lavorare a Italy non avranno più attenzione alla sora Maria del territorio che aveva bisogno di due chiacchiere, cioè non fanno più quell'opera di socializzazione che sappiamo bene che il commercio realizza. Questa è roba enorme, noi abbiamo accettato l'idea, abbiamo anche usannato a un signore che utilizza questa roba e che tratta il lavoro in questo modo, il danno sociale di un'organizzazione di questo tipo. Poi non la chiappiamo più, quindi noi dobbiamo pretendere che quel signore usi l'algoritmo per fare una cosa diversa. Prevuto me lo comunichi il mercoledì e secondo mi garantisci che ci sia il 20% in più del lavoratore necessario affinché abbiano dei momenti di... si chiamava pausa una volta sul lavoro, che il commercio non ha più. Ok, questo è l'algoritmo. Noi abbiamo... Lì non abbiamo una proposta, non abbiamo una soluzione precisa, ve lo dico subito se ve la andate a leggere, perché tutto il mondo sta avvedendosi. Il credito, perché il credito, voi lo sapete, perché il credito lo cercate dalle banche, pensate che il credito venga oggi dato sulla base di una valutazione dell'affidabilità della persona che lo richiede, manco per niente, viene dato sulla base di un algoritmo di apprendimento automatico. Voi fate una domanda, questa domanda entra dentro, voi venite classificati sulla base magari anche degli errori grammaticali che sono stati fatti, non lo sapete com'è, che correlano. Liliana Grasso, il modo in cui ha fatto la domanda, Liliana Grasso, sembra assomigliare a una tipologia di domanda che ho bisogno di dire di no, ma non lo so neanche io, banca, perché le dico di no. È chiaro il punto? Io le dico di no perché l'algoritmo mi dice che quel tipo di domanda è correlata con affidatari, come si chiamano, con persone che hanno chiesto il credito, che sembrano non affidabili. Quando lei va a chiedere perché non gliel'hanno dato, non glielo sa dire la banca, questo è il mondo in cui viviamo. Nel vostro campo mi sono andato a guardare, ma voi lo sapete più di me, quindi adesso azzittatemi perché sicuramente lo sapete, mi sono andato a guardare gli utilizzi, una cosa impressionante. Io pensavo, mio figlio, il calcio, eccetera, le scommesse, vabbè, è ovvio che gli algoritmi apprendenti automatico servono per prevedere le scommesse, e questo lo sapete, è la cosa più ovvia di tutte quante, ma per prevedere gli infortuni, con una casistica complessa, e quindi la disponibilità dei ragazzi a rischiare nel lancio del disco, piuttosto che in uno strappo sul salto triplo, ma una cosa impressionante appena mi sono messo a guardare, cioè oggi quella roba viene gestita non da rapporti umani, non dall'allenatore, questo sta arrivando, viene gestita da un algoritmo che dice quel ragazzo secondo me quella roba non la deve fare, fin qua forse siamo ancora in un campo quasi tutto positivo, ma quello che ho letto mi ha impressionato ancora di più, viene identificato per lo scouting, per la ricerca delle persone che fanno sport, per la selezione, per mandarli avanti, che è la stessa cosa che avviene nel mondo del lavoro, che avviene la stessa cosa che avviene adesso negli Stati Uniti che sono più avanti, leggi più indietro, nel decidere se dare o no supporto per la ricerca della casa. arriva lì a una grasso e chiede di avere una mano perché non ha casa e lei deve mettere le informazioni, lei non parla più con Fabrizio Barca ha detto al welfare, lei fa una domanda che viene esaminata e questo è terribile non solo perché di nuovo io la classifico come quelli che non vale la pena di dare una mano sulla casa perché poi si dimostra che la usano male, ma che lei non viene neanche riconosciuta come un essere umano, quindi viene meno nel rapporto sociale e la stessa cosa avviene nello sport, è una cosa terribile quanto importa ai ragazzi avere colpito un allenatore, essere stati visti mentre giocavano a caldo in un campetto, essere apprezzati magari non per avere vinto ma essere apprezzati per avere avuto lo spirito, per essere gruppo di squadra, per avere fatto gesti che non stanno nell'algoritmo, quindi tutto il vostro lavoro che comprende anche il vincere perché non ci sta niente di male vincere ogni tanto, i ragazzi poi vogliono vincere, ma puoi vincere in tanti modi, ma quella roba se tutta la selezione è costruita in quella maniera meritocratica, folle, diciamo impostaci dal capitalismo, il capitalismo va bene fino a che non riusciamo a trovare una cosa migliore ma che non invada la nostra sfera sociale e non ci impedisca di svolgere la funzione come si chiama di frattura, perché con quella roba, con questa roba noi la frattura della sedentarietà non la otteniamo. Da ultimo nel campo del calcio o della palla a volo o della palla a canestra ho visto che l'uso dilagante ovviamente è quello di prevedere le mosse dell'avversario, tutte queste mosse che vengono tutte caricate, montagne, norme di dati per cui tu alleni i tuoi, sono in realtà cominciano ad essere, ma lo sapete benissimo, molto meglio di me, algoritmi contro algoritmi, perché tutta la tattica della partita avviene attraverso una roba di previsione uno sull'altro, non ho capito dove converge, ho fatto matematica e statistica, ho provato a intuire che si chiama punto focale. Cosa voglio dire? Che il tema degli algoritmi a me sembra fondamentale. Ieri in una riunione bellissima che è nata dal nostro forum con un gruppo di persone che ne sa molto più di me, di informatici, di donne informatiche, perché la esclusione di genere nel campo dell'informatica è drammatica e la reintroduzione di discipline diverse, sociologia, psicologia e di voi e delle donne nella costruzione degli algoritmi può cambiarne come la destinazione in modo cui sono costruiti. Qua secondo me voi avete un campo straordinario, il campo di provare a costruire algoritmi diversi e poiché noi come forum siamo in grado di raccogliere forze che possono lavorare con voi se vi venissero idee, magari a voi se alcune applicazioni ve le siete già inventate a noi del forum ci interessa conoscerle per diffonderle. Se ci aveste delle idee ci interessa mettervi in contatto con chi le può costruire degli algoritmi perché e mi ha zitto perché noi non costruiamo una nuova società Vincenzo e lo sappiamo solo attaccando quelli i cattivi no, la gente ha bisogno di tornare a credere che esista un'alternativa visto che per 30 anni centrosinistra e centrodestra gli hanno detto che non c'è l'alternativa hanno bisogno di tornare a credere che esista un altro modo non gli basta essere impauriti dagli usi cattivi perché la paura da sola non fa emancipazione sociale anzi alimenta i cattivi noi abbiamo bisogno di dire guarda che si potrebbe usare in un altro modo l'esempio che vi ho fatto su Farinetti non siamo dei luddisti degli antimodernisti siamo dei modernisti vogliamo la varra non so come dire vogliamo le modalità tecnologiche ma vogliamo che siano utilizzate in una maniera che corrisponde al nostro obiettivo poiché apprezzo molto il vostro io credo che su questo si possa lavorare non mi dite adesso nulla queste sono le quattro idee che vi ho depositato e spero che questa interazione che oggi ha avuto un'altra tappa produca ancora idee come ha fatto fino adesso grazie a tutti grazie a tutti